La sicurezza del territorio continua a essere la stella polare dell'attività delle forze dell'ordine, tesa a garantire la tutela dei cittadini. In questo contesto, negli ultimi giorni è stato intensificato il servizio di controllo da parte dei carabinieri di Caltanissetta, nel corso del quale sono stati verificati 103 automezzi, elevate 12 contravvenzioni al codice della strada, ritirate due carte di circolazione e una patente, identificate 195 persone, sequestrate un coltello, 3 grammi di marijuana e 10 grammi di hashish. Inoltre, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria una ragazza di 35 anni per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina. L'auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo e la patente di guida della donna è stata ritirata. Un 25enne per evasione dagli arresti domiciliari è stato trovato fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione e un 48enne per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama a punta della lunghezza di 20 centimetri. Nel medesimo contesto sono stati segnalati alla prefettura di Caltanissetta tre persone che detenevano per uso personale hashish e marijuana.